I retro in via Marcantonio 41 for film and other elevators, not the B elevator, but the C, A, and D. And the EGV real elevator. Now we start with the scala B elevator. Oh, elevator, here. EGV. Oh, nice, EGV elevator. No, this is the Domus Suli. Del Bo, nice elevator. Seven floors. I remember for the first elevator of this one was an old sub-EM. And completely leplacido by Del Bo. I was working on my camera. Del Bo. I was working on my camera. I was working on my camera and I was working on my camera. E' quieta. Prima basci la mia. Premi giù. Ok. Quinti inner doors. Oh! Cripe doors! Probabilmente questa è la stessa brand di inner doors del campagna elevatore che ho filmato recentemente con le banche inner doors. Mmmmm. E' uno dei più piccoli elevatori che ho filmato. Buon lavoro. Buon lavoro. Ma allenta. Sono sette piani. Non sono quattro. No. Tieni premuto. Sale. Ora il secondo. Sì. 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 E' in 2003. Sì. 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 E' occupata. Chi se ne frega. Sì. No. E' occupata. Sì. 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 il lavator. Stop the camera. A lot of persons use the lavator. My grandpa call in person. Very nice, that bow. Oh, quiet in the doors. As on the floor when the electrical energy was scrapped. Sabiem. This one was all the Sabiem. And now, after I filmed the last elevator, I filmed the last elevator in via Marcantonio. Very quiet. I know. Appoggio qua digitale. Io vado. Vendo la porta. Andai, andai. 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 Andai andai. Andai 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 and the last elevator is the same that is ok solo questa che funziona meglio 5 floors in this boil very quiet in the doors it's not the best strange this one is idraulic no wow nice motor sssss but not the الطanel e saran tisi GARMOTE coming by gammal go Non c'è l'acqua, non c'è l'acqua, non c'è l'acqua, non c'è l'acqua. Non c'è l'acqua.